The habits of my heart I can't say no It's ripping me up I'd love to Bella ragazzi, ciao benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su Call of Duty Black Ops 3 E siamo sul settimo episodio Da Yo2Deck Mater Questo oggi ci stiamo portando molto davanti Infatti come vedete ci mancano solo 6 kill E poi abbiamo la mimetica di amante per gli assalti E poi in altre cose mi sono portando Molto davanti lo specialista Questo qui perché il Tempest l'ho compilato al massimo E mi manca solo una volta Cioè uccidere praticamente due nemici Subito dopo aver usato glitch Quindi ci do a capire tanto culo Perché quando ho fatto il primo corso C'ho avuto un bucio dei culo su tutti contro tutti Ed è stato molto tattico Quindi stiamo su The Cifra Squad Quindi ragazzi ci vediamo subito in game Quindi ragazzi eccoci qui sulla partita Appunto Speriamo bene Perché mo che sto usando L'M8A7 Sto usando l'M8A7 Quindi un po' lo sciviamo Lo sto dimenticando E non mi ci do abbastanza bene Quindi speriamo bene Speriamo bene Cazzo Rega Cioè vabbè Dari mui mi colpiscono Non c'ha senso la tua vita Eh aia Mi sa doppio ho fatto sì Ho fatto una doppia Ma mancano solo 4 4 kill Poi avevamo la mia media Che diamanti Quindi va bene Va bene così Qui Ecco E uuuuuh Camper Intanto Tanto so che esce da qua E appunto Quindi va bene Va bene Mancano 2 kill Poi stanno a posto Quindi Speriamo bene Eh quello la sta lì Rega Dai Ma che arma c'hai Lo sciviva Cioè io per davvero Rega Lo sciviva A me Mi stava piacendo molto Poi ho incominciato A usare l'M8A7 Con fuoco e abito Dopo vi faccio vedere la classe Oh è devastante Rega È devastante Facci Facci atti di tutta La madonna Se te la cavi Non so dove sono Dai rega Ma vaffanculo Non muoiono Eh 2 kill Del cazzo Poi ogni tanto Mi si blocca il gioco E vuoi sentire L'audio di un mezzo Ok Una kill Una kill Fottuta No Assist Ho fatto un assist Davvero camoioso Quello È morto Olè Mimedica diamante Ragazzi Vediamo un po' Oh Intanto cambio E la sopra È comparsa La mimedica diamante Motivamente Tento devastante Vai bene Ok Andiamo da qua Vediamo un po' No niente Ho fatto il feo glitch Per sbaglio Oh madonna Ammazzalo Guarda Quanto è inutile il compagno Oh Oh A compagno C'è sta uno Vaffanculo Vaffanculo Campe di medda Vabbè Tanto devo cambiare Ma quindi Scialla Va bene Va bene Ve lo finalmente Vedete la mimedica Demante anche per gli assalti Ok Usiamo il mio Caissimo Ma è le mie ammi Devo ferire La morte Ve l'è Ve l'è Ve l'è Che spettacolo Che cazzo Ma così Sai ma così Hai il culo Ai nemici Cazzo Ve l'è Madonna Via scappa 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 Ok Comunque già due mimedica Diamante Siamo una buona Situation Alla prima Guardate la virata Di sensori acquisiranno L'obiettivo UAV di disturbo Pronto Eccezio Un andato Via scappa Sto finendo le munizioni Ok 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 scendiamo Scendiamo Dammi l'arma 2 Ok Invelli xe2 Va bene così Va bene così Invelli xe2 Va bene Va bene Non so dove spawnano nemici Non è vero Spawnano sempre Di qua Perché Di là giustamente Non ci sta nessuno L'uAV O deve rientrare Alla base Ma di stato Ma di Stiatto No ma perché Che cazzo sto Fando Ma di stato Mi padre Stavo dicendo Appunto Non ho parlato Che tipo Un minuto Che è massimo Per quel motivo Non so perché Mo sto spando Su uno I affiga Sono subito In demente Ok Che cazzo Se là non viene in alto Giustamente Dunque 18-8 E' un buon risultato Alla fine Ma come voglio Incazzare Sti partiti Perché alla fine So Per fare le sfide Quindi scialla Va bene Va bene Non so dove Sponano ancora I ammila Però Hai otto il cazzo De sto sceva Ok Lì sta avvenendo un attimo Nel vero Sicuramente Già hanno Veso Infatti Eccolo No Ho fatto un fail Cravoioso Però va bene Va bene Finceramente Nel nero Mi feca tanto E poi da qui Regà Io muoio 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 Ok Lo so sabato Per cura La prima Ok Non so dove stanno Perché qui dentro Non ci sta un compagno Oh La 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 Là ci sta uno Ok Io sto Che tattica Ragazzi Che tattica Di gioco Ok Ok Comunque è davvero Ripassante Sai ma Quei davvero Ok C'ho dietro Mamma mia No no Eh 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 Che cazzo Sta succede Oddio Mi sono salvato Per culo Mi sono salvato Troppo culo Su sta cosa Su sta parte Ho finito le munizioni Ma ho un po' Panicato Ma perché là Non viene più nessuno Dove sta Ok Oddio 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 Il nemico Il nemico Ha distrutto Il vostro UAV Di disturbo UAV In allontanamento Aiaiaiaiaiaiai Le bombe Di media Un che 29 11 Alla fine è un buon risultato È un buon risultato Ok L'ha ucciso quello davanti a me Potevo fare 30-11 Però va bene così Quindi ragazzone ci vediamo a fine partita Per farvi vedere cosa abbiamo sbloccato Sì eccoci qui alla fine della partita Stavo aspettando che si togliesse quello di umore Comunque ritorniamo indietro Qui comunque penso che non abbiamo fatto niente Infatti non neanche l'abbiamo mai usato glitch Non mi ricordo su sta partita Comunque questa è l'arma che abbiamo usato dopo dello Shave Guardate copiate ragazzi E fatemi sapere cosa ne pensate Perché un'arma secondo me è devastante Io devo assoluti con quell'arma cazzo E finalmente abbiamo fatto lo Shave Oio che ci ha sbloccato anche La mimetica diamante per il coso Quindi la metto subito qui la mimetica diamante Così guardate spettacolo L'M87 è troppo bello Quindi ragazzuoli in questo episodio comunque abbiamo fatto la mimetica diamante Finalmente per i fucili di assalto Fatemi sapere nel prossimo episodio cosa volete Fare le mirallette leggei o i fucile a canna liscia O i fucile a precisione Mi sto allenando un pochetto col Diagon Infatti guardate già ho portato a livello 8 Sto facendo molti un colpo morto Soprattutto lo sto facendo vedeano Fatemi sapere comunque se volete questa qua come prossimo episodio Quindi ragazzuoli spero che questo video vi sia piaciuto Finalmente abbiamo sbloccato la mimetica diamante E mo' mi faccio pure il coatello Perché noi siamo coatti Quindi aspettate Mo' facciamo proprio una cosa coatissima cazzo E facciamo musicare un po' di gente Quindi eccola qui la mimetica diamante Uscimo salviamo E vediamo un po' Vediamo un po' Facciamo così Andiamo qui sull'assalti Eccola qui ragazzu Guardate quanto siamo coatti Con la Con la notte asset in diamante Quindi ragazzuoli Lasciate un bel commento qui sotto Cosa fai nel prossimo episodio Spero comunque il video vi sia piaciuto Se è così ragazzuoli Lasciate un bel like Un commento appunto Iscrivetevi al canale Ci vediamo nel prossimo video Ciò appuntato è tutto Bella